Lisernia batte il Giulianova per 1-0, una partita facile solo sulla carta per i bianco celesti, ma che sul rettangolo di gioco risulta decisamente più complicata, tant'è che si sblocca solo verso la fine. Ma andiamo alla cronaca. Primo squillo lo registriamo al sesto minuto di gioco con Panico che si libera bene in aria, ma non inquadra lo specchio della porta per un soffio. Al dodicesimo l'occasionissima è per Ruggeri, su calcio di punizione dal limite, ma il suo tiro viene murato dalla difesa bruzzese. Al quindicesimo si vede pure il Giulianova, con Silvestri, maschina e bravo a deviare in angolo. Al diciottesimo i padroni di casa si illudono con il gol di Panico, che però viene annullato per la posizione irregolare del capitano. Al trentacinquesimo, altra occasionissima per Panico, che dopo un'ottima giocata si ritrova a tirare dalla destra, ma la palla, che quasi attraversa la linea della porta, finisce fuori. Non accadrà più nulla di interessante fino alla fine del primo tempo e a reti inviolate si va dunque negli spogliatoi. La ripresa vede un Giulianova più deciso e comincia a collezionare una serie di occasioni importanti, da subito. Al primo minuto vediamo questa punizione battuta da Giampaolo, maschina, riceve con relativa facilità. Al quattordicesimo è Pellecchia, che in ottima posizione spedisce alle stelle. Al ventunesimo, incredibile tiro di Silvestri, che a porta vuota finisce sul palo e poi fuori. Al ventiduesimo siamo dall'altra parte ed è Cantoro, che va al lato di un soffio. Al trentaduesimo il Giulianova, all'occasione più netta di tutto il match, maschina, compie un vero e proprio miracolo sul tiro di Giampaolo. Ed è sempre il numero dieci abruzzese, che al trentacinquesimo va al lato di pochissimo. Siamo al trentottesimo, alla svolta, arriva su calcio d'angolo battuto da Girardi, con Sergio Ruggeri, che insacca la rete del vantaggio bianco-celeste. E non accadrà più nulla di particolarmente interessante fino alla fine del match, che neanche negli ultimi minuti si infuoca troppo. Lisernia, dunque, conquista tre punti preziosissimi, che non aiutano solo la classifica, ma anche il morale, in vista di due trasferte importantissime. Il Giulianova, che ha dato comunque del filo da torcere, deve lavorare molto più alacremente per guadagnare la salvezza in questo campionato.